Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andate in quella direzione, ci sono due stanze, vi dividete. Così i ragazzi naturalmente hanno preparato la mozione che poi verrà letta, hanno preparato il pro e il contro, ma adesso che sanno di preciso che cosa toccherà loro, vanno ad armarsi di tutto punto. Grazie a tutti. Intanto mi piace ricordare soltanto l'elenco, cioè voglio dire tutte le scuole che hanno partecipato a questo progetto. Magari facciamo dire qualcosa al professor Cardinale che è stato citato prima, che sono il liceo sociale, il Dazzeglio, l'Alfieri, il Gioberti, il Cavour, ma anche il Botta di Vrea, il Sella di Biella, il Peano di Tortona, Giolitti Gandini di Bra. Quindi siamo contenti perché ha partecipato effettivamente tutto il Piemonte e tengo a dire anche non soltanto i classici. Visto che in effetti il nostro è un debate, ma un debate particolare perché vuole partire da mozioni, da testi classici, da pensieri che partono dalle nostre radici, ma poi svilupparsi verso il futuro. Ma vuole che su questo riflettano non soltanto gli studenti che studiano latino e greco, ma anche i scientifici e tutti coloro che studiano comunque il latino. Chiederei al professor Cardinale se vuole fare un saluto piccolo. Buongiorno a tutti e buon festival a tutti. Grazie e vi ringrazio veramente tanto perché vedo che partecipate davvero in tanti, da molte scuole e non solo da Torino. Mi ringrazio veramente tanto. Noi teniamo molto questa manifestazione perché è un po' come abituarvi all'argomentazione, alla discussione. Questo è molto importante per la nostra nazione in questo momento. Grazie allora dalla vostra partecipazione, grazie alla Marcella Guglielmo e al professor Manca, alla professoressa Berardi. Buon festival di nuovo. Grazie. Adesso, allora, in questo quarto d'ora, venti minuti, avremmo piacere di ascoltare il professor Daniele Ventre che invitiamo a salire qui in pedana. Può stare in piedi, seduto, laggiù hanno preparato lo sgabello. Docente di lingue classiche nei licei, autore di diverse, direi, traduzioni di testi classici, in particolare, direi, soprattutto poemi latini e greci, quindi da Apollonio Rodio, Omero, Virgilio, nonché anche curatore dei lirici greci. La traduzione è importante perché noi parliamo con i classici, ma i classici vanno sempre ritradotti. Il lessico che viene utilizzato deve essere comunque sempre, deve poterci dire qualche cosa, deve essere comunque vicino a noi e nello stesso tempo rispettare il pensiero dell'antico, ma anche la musicalità. Il confronto è non soltanto con autori che scrivevano, quindi pensiamo a Apollonio Rodio, Virgilio, ma anche con autori la cui traduzione era orale. Quindi il tentativo della traduzione è proprio quello di riportare anche quella musicalità e di farci godere anche di questa parte molto importante presso gli antichi che altrimenti rischierebbe di andare perduta. Lascio anche il microfono. Mi sentite? Allora, in realtà io vorrei articolare il ragionamento in due momenti. Uno che di per sé apparentemente sembra non avere molto a che fare con la traduzione come tale e l'altro proprio invece incentrato sulla traduzione per quello che essa ha rappresentato ed è stata nella mia, diciamo così, tra virgolette, carriera. Insomma, nel senso che quello che è stata la traduzione, quel lavoro che ho cercato di mettere insieme, di portare a compimento. Allora, come primo punto parto da un elemento che apparentemente sembra un po' tecnico e un po' diciamo così astratto è che il nome dell'eroe protagonista, anche perché è stato, mi è stato anche contestato in una recensione il fatto che, come se fosse poi questa terribile forma di regresso all'arcaico, di aver scelto di tradurre Odisseo con questo accento precisamente, cioè un accento alla latina, come correttamente dovrebbe essere, non Odisseo come faceva D'Annunzio quando parlava del re di Tempeste e Odisseo in una delle sue peggiori performance retoriche inversi, perché D'Annunzio è un grande poeta ma a certe volte esagera, diciamo così. Mi è stato detto, in fondo, il common reader, questo essere mitologico, che piace tanto al mainstream dei recensori è uno, il lettore comune, è uno che conosce questo eroe come Ulisse, non come Odisseo. In realtà, su questo nudo, apparentemente secondario, si gioca tutto il problema. Odisseo è la forma che il nome dell'eroe assume nell'Odissea che noi possediamo. Cioè, in un poema che è un poema, si chiama un testo transizionale dall'oralità alla scrittura composto, secondo alcuni, alla fine dell'ottavo secolo, secondo altri, per esempio Martin West che era molto convinto di questa ipotesi, alla fine del settimo addirittura. E questo testo transizionale raccoglie la sua tradizione, per cui noi l'eroe si chiama Odisseo. E ovviamente su questo Odiusseus gioca parecchio, perché Odiusseus è Odiuromenos, Diosmoros e Odiusomenos, traduco. Afflitto, Odiusomenos, infelice, Diosmoros, sfortunato. E odiato. Particolare il gioco di parole Odisseo, odiato, si può restituire anche nella lingua d'arrivo. Ed è un gioco di parole essenziale nell'Odissea. Perché Odisseo è odiato, da Poseidone naturalmente, sin dall'inizio del poema e verso la fine del poema, nel diciannovesimo libro, si dice che il nonno di Odisseo, Autolico, personaggino non raccomandabile, una specie di Totorrina della Grecia centrale dell'età oscura, perché praticamente era un bandito, un assassino e un ladrone. E diceva di se stesso, io sono arrivato qui al, quello che potremmo chiamare quasi il battesimo di mio nipote, dove ho seminato odio sulla mia strada. E quindi questo figlio che ha avuto mia figlia si chiamerà Odiusseus, cioè perché io sono stato odiato, Odiusamenos, quindi sarà il seme dell'odio che io mi sono lasciato dietro. Cioè questo è il gioco di parole che c'è attorno al nome di Odisseo. Ma noi abbiamo anche l'altro nome, Ulisse. Ora, Ulisse in realtà non è il nome latino dell'eroe, ma è un nome dialettale, periferico, Ulixes, che i latini assimilano perché la colonia greca con cui loro interagivano, più da vicino, una delle colonie greche in realtà, che era stata però conquistata da altre popolazioni, Pestum, Poseidonia, aveva un dialetto in cui Ulisse si dice così, Ulixes. Ora, questa strana duplicità del nome è dovuta alla sua origine. È un'origine probabilmente medio orientale. È passato questo nome attraverso una serie di popoli intermedi che erano fra il Medio Oriente, a partire dalla costa del mare di Levante, e la civiltà micenea, e lì si è sedimentato. E quindi si è creata questa doppia tradizione. Odiusseus, Oliusseus, Ulixes. Ora, la traduzione deve fare i conti con questo problema. Perché se viene contestato il fatto che il lettore comune conosce Ulisse, non Odisseo, Odisseo sembra un arcaismo da professorone d'accademia, allora bisogna chiarire questo aspetto. Cioè, in pratica, noi abbiamo di fronte un poema che ha sedimentato tradizioni culturali che non erano nemmeno greche in origine, ma venivano probabilmente dalle lingue e dalle culture afroasiatiche, cioè fra il mare di Levante e l'Egitto, sono state assimilate molto precocemente, e poi sono state pienamente grecizzate, sono addirittura spostate nel tempo da aree come Cipro e Creta ad aree apparentemente più periferiche come la zona di Itaca e delle isole Ionie, delle isole greche che costeggiano appunto il continente, l'Epiro e la parte nord-occidentale della Grecia. Questo è il concetto di base. Cioè, si tratta di una tradizione stratificata che in origine non è nemmeno greca, col tempo passa di dialetto in dialetto, questo accade un po' anche per l'Iliade in realtà, è comune a tutti e due i poemi omerici, e in generale è come la tradizione epica greca si è formata. Ora, un traduttore che deve affrontare questo retroterra ha un altro problema. Il dialetto che si trova nei poemi omerici è una lingua d'arte che ha una struttura finalizzata alla costruzione dell'opera poetica, alla sua improvvisazione orale. È fatta di frasi fatte la cui struttura, in termini di sillabe e di sequenze, è proprio costituita da tronconi diversi che si possono assemblare in modo da improvvisare versi formulari, scene tipiche, interi blocchi narrativi e alla fine un intero poema. Questa è una cosa che è ben nota agli studiosi sin dai tempi in cui Meillet, Perry e Lord scoprirono che i poemi omerici erano una forte componente di improvvisazione orale. Magari non sono stati composti solamente nella dimensione dell'oralità, cioè dell'improvvisazione, ma sono stati anche influenzati da un substrato, da una pregressa storia di lunga tradizione orale. Ora, la traduzione di queste opere ha un problema perché deve affrontare una lingua stratificata nei secoli che ha dietro di sé una tradizione orale che è passata alla scrittura, ma la traduzione cos'è? È una traduzione di un testo stampato, bloccato, in una lingua d'arrivo che non è più la vecchia lingua poetica, ovviamente, perché quella è ormai inservibile, stata ironizzata, attaccata e giustamente anche disintegrata dai poeti di inizio novecento e questa lingua però deve essere in qualche modo restituita. Il lavoro di traduzione che ho messo a punto è stato piuttosto complesso metterlo a punto, ha richiesto più di dieci anni di lavori preliminari con una serie di istruzioni cicliche per cui il lavoro veniva portato avanti e cancellato fino ad arrivare con la forma che ha raggiunto più o meno nel 2007, questa è solamente la terza edizione in realtà della traduzione, questo lavoro consiste nel tentativo di fornire alla lingua d'arrivo una profondità tradizionale e il tentativo anche poi si sposa con la necessità di restituire il fatto che nella lingua d'arrivo questi elementi formulari, questi tronconi di verso che costituiscono la lingua tradizionale di Omero devono essere in qualche modo restituiti, cioè il lettore deve avere almeno in parte l'idea di trovarsi di fronte a un testo tradizionale fatto di blocchi narrativi predefiniti da una lunga sedimentazione storica come si è o come ho cercato di ottenere questo risultato in realtà si può fare perché ovviamente le tradizioni omeriche implicano anche tante traduzioni omeriche non solo in italiano partire già dal mondo latino che di fatto anzi le cose in realtà dovrebbero partire ancora più da lontano dall'epica di età ellenistica con Apollonio Rodio quando Apollonio Rodio a modo suo costruisce una sorta di simulazione di poema epico all'interno della tecnica scaltrita della poesia estremamente moderna e avanzata che è tipica del terzo secolo avanti Cristo dell'epoca dei tolemei insomma ora questo tipo di costruzione letteraria che va di simulazione in simulazione dell'oralità originaria di Omero arriva poi alle traduzioni neoclassiche attraverso tutte le serie di passaggi in termini alle traduzioni neoclassiche che sono note a tutti per esempio la traduzione del Monti e del Pindemonte quelle traduzioni che probabilmente non sono traduzioni ma sono versioni o riscritture perché c'è una differenza fra traduzione versione riscrittura ovviamente quelle traduzioni sono praticamente quella del Monti sull'Iliade in realtà versioni influenzate dalla tradizione dei traduttori latini in versi che a loro volta cercano di restituire Omero con lo stile di Virgilio una cosa un po' strana perché il latino che traduce Omero in versi tende a essere virgilianeggiante in età umanistica tardumanistica barocca e poi nel Settecento quindi questo tipo di tradizione poi viene studiata un'altra tradizione che è quella che si assesta dopo Carducci e Pascoli Pascoli nelle sue traduzioni e riduzioni dà una prima traduzione in esametri italiani di passi molto ampi dell'Iliade e dell'Odissea e questo è il primo nucleo diciamo così della tradizione di traduzioni che ho recuperato ad esempio chi va a leggere spesso nei poemi omerici tradotti in questa forma troverà una formula che rende l'espressione meropessantro poi cioè letteralmente degli uomini mortali poi questo meropessatante possibili interpretazioni ma la più accreditabile è questa e io si traduco gli uomini nati a morire questo tipo di espressione è pascoliana recuperata in parte da Romagnoli nelle sue traduzioni in esametri di un'epoca non proprio bellissima della storia d'Italia anche Romagnoli ha delle colpe storiche politiche diciamo che sappiamo però come traduttore ha una sua rispettabilità per quanto poi venne ampiamente superato le traduzioni di Rosa Calsecchi Onesti per esempio di cui alcuni elementi vengono recuperati per esempio un certo modo di rendere certi epiteti formulari attraverso per esempio l'uso di apposizioni invece che tra aggettivi o complementi di qualità come succedeva nelle traduzioni più antiche quindi questa sorta di stratificazione delle traduzioni è stata da me recuperata e quindi ho cercato di costruire una sorta di lingua dattilica cioè di lingua ritmata con questa profondità tradizionale attraverso le traduzioni e così ho costruito progressivamente questi versi che significa che in queste traduzioni voi trovate questa traduzione su cui ho lavorato da circa una ventina d'anni a questa parte troverete il fatto che c'è quasi una corrispondenza più univoca tra il testo greco e la traduzione riguardo all'addizione formulare cioè in altre parole l'altro mio scopo fondamentale è quello di restituire al lettore l'idea che ha di fronte un testo costruito di formule cioè di espressioni fisse che sotto la stessa condizione metrica esprimono una stessa idea essenziale questa è la definizione rigida di formula che venne data già da Milman Perry negli anni trenta del secolo scorso però è la definizione di riferimento su cui poi gli studiosi lavorano e dibattono in caso di dirlo ma è comunque la definizione di riferimento cioè quindi in pratica prima di tradurre l'odissea ho dovuto tradurre o meglio trasportare la dimensione antropologica di una lingua d'arte cercando di simularne le forme le strutture quindi simulare una sorta di oralità su questa cosa che è il libro a stampa che è proprio il contrario dell'oralità sapete che la filosofia antica si basa sul concetto di logos e fonè come presenza estrema addirittura il logos nel cristianismo è la parousia per eccellenza la presenza per eccellenza il mondo contemporaneo con Derrida a partire dalla riflessione sulla scrittura la famosa cartolina postale si basa sul concetto di assenza determinato dalla scrittura quindi in pratica l'impresa disperata di queste traduzioni è quella di restituire una presenza attraverso un'assenza questo è il paradosso di fondo non so se è chiaro il problema il paradosso di fondo è che quando uno legge un testo scritto chi l'ha scritto non c'è più o perché è lontano o perché proprio è passato chi invece ascolta una poesia orale e lo fa nell'immediato della performance ascolta la dimostrazione di una presenza estrema perché il poeta orale è presentificante scusate l'espressione un po' pesantuccia per eccellenza cioè rende presente ciò che è remoto nel tempo il tema centrale della poesia epica è questo Cleo Saftiton che si traduce in probabilmente gloria immortale in realtà significa quello che si sente dire senza che mai si consumi un'espressione che tra l'altro non è solo greca esisteva nell'epica prima che il greco esistesse come lingua perché lo troviamo nel vedico la troviamo nell'epica celtica la troviamo in tutte le epiche delle lingue cosiddette lingue e culture apparentate dalla cosiddetta matrice comune dell'indoeuropeo questa protolingua o protocultura ipotetica ma molto verosimilmente reale dell'Europa ancestrale dell'Europa dell'inizio dell'età del bronzo ora il concetto è che la presentificazione del poeta orale deve essere in qualche modo restituita nell'assenza della pagina stampata se non si fa l'operazione di rendere in qualche maniera l'effetto uditivo fonico della performance orale tutte le altre traduzioni che cercano di ridurre in prosa o di addomesticare questo aspetto purtroppo trasformano ipso facto una presenza in un'assenza questa è la cosa che bisogna evitare assolutamente perché purtroppo il traduttore che si confronta con questo tipo di testi è sfortunato non è un traduttore come quello che traduce Platone o traduce Tolstoi mi spiego uno che non traduce qualcuno che ormai è nella scrittura e nella civiltà della scrittura per quanto declinata nelle sue varie forme qui penso posso concludere insomma ringraziamo il professore adesso avremo voglia di leggere la sua traduzione in compenso abbiamo visto il volume effettivamente ponderoso sì è un volume voluminoso oggettivamente però la curiosità di leggerlo col testo a fronte giusto col testo a fronte per poter così ritrovare i discorsi che sono stati fatti questo c'è magari qualche pagina con gli studenti che sono qui presenti si potrebbe anche provare a leggere aspettiamo i ragazzi tra loro stanno concertando e verranno fra pochissimo intanto facciamo salire la nostra moderatrice abbiamo una moderatrice Sofia casomai non l'aveste capito alla clac perché è venuta con con la classe è una dibattente quindi è perfettamente in grado di moderare poi anche di spiegare a tutti noi dal punto di vista tecnico che cosa accadrà naturalmente è una competizione possiamo definirla una competizione sportiva e come tutte le competizioni ci deve essere anche una giuria e quindi attendevo questo momento per ringraziare anche i giudici che sono Elena Cusumano ex no dibattente ma che ci sostiene tantissimo come giudice come moderatrice in queste ultime edizioni del del festivale di disputa classica idem Marco Pellicano che prima ha dibattuto e poi anche lui giudice e la professoressa Antonella Bossuto che è una grande esperta perché ha sostenuto la sua squadra non so se la sostenga ancora ma ha sostenuto la sua squadra per moltissimi anni e quindi anche lei è un'esperta io lascio il microfono e vado anche a richiamare le due vado a richiamare le due squadre c'è un campanello posso che segnerà il tempo e sarà fondamentale il campanello storico di disputa portato per casa la prima volta ci è piaciuto immortalato subito dal festival e quindi l'abbiamo mantenuto lascio la parola buongiorno a tutti allora direi di iniziare con il regolamento della disputa classica dunque nel corso del dibattito che durerà circa 45 minuti si alterneranno i tre oratori della squadra pro e i tre oratori della squadra pronto contro scusate per al massimo sei minuti ciascuno con lo squillo della campanella verrà segnalato con i due squilli l'inizio dell'intervento di ciascun oratore dopo il primo minuto segnato anche questo da uno squillo sarà possibile alla squadra avversaria avanzare questioni che potranno essere accettate o respinte tale tempo di domande si chiuderà nell'ultimo minuto dell'intervento segnato anche questo da uno squillo della campanella e i due squilli finali segneranno appunto la fine dell'intervento di ciascun oratore a ciascuna squadra inoltre saranno concessi tre minuti alla fine per la replica e partirà la squadra contro al termine dei singoli interventi ai giudici saranno riservati un paio di minuti per esprimere i propri giudizi dunque direi di iniziare magari con le presentazioni squadra pro e squadra contro vi chiedo di presentarvi sì io sono Lucia Macagno e sono lo speaker numero uno della squadra pro io sono Pavan Rossana e sono il secondo speaker della squadra pro Pavan io sono Francesca Viarengo e sono il terzo speaker io sono Alberto Delbono e sono la riserva no è la riserva primo speaker io sono Nicola Maltana e sono il primo speaker della squadra contro Ilia Stazzi secondo speaker quadra contro e replica Alessandro Bellucci terzo speaker della squadra contro forse Emma Sabina riserva ok direi che possiamo iniziare la mozione di oggi siamo figli di Enea e dunque dell'Oriente do la parola al primo speaker della squadra della squadra pro buongiorno a tutti io sono Lucia Macagno e sono lo speaker numero uno della squadra pro alla mozione innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo dibattito e quindi ringrazio gli organizzatori ringrazio i giudici la nostra moderatrice la squadra avversaria e la mia squadra per entrare meglio nel merito della nostra mozione ritengo necessario dare alcune definizioni che ci saranno utili e che saranno che saranno base di quella che è la nostra argomentazione innanzitutto partiamo dal noi ovviamente non è presente nella frase della mozione ma è il soggetto sottointeso e anche per questo protagonista della nostra mozione noi stiamo parlando di noi ma chi siamo noi noi è inteso come civiltà occidentale di oggi e invece l'altro protagonista di questa mozione è l'Oriente la chiave dell'interpretazione di questa parola è la contestualizzazione perché non si può parlare universalmente di Oriente perché questo nei vari periodi storici ha significato una cosa diversa e quindi noi intendiamo l'Oriente contestualizzato al periodo storico e quindi quando parleremo di Roma parleremo cosa intendono i romani per l'Oriente ovvero anche la Grecia insieme ovviamente al Medio Oriente e quando parleremo della modernità parleremo di ciò che rappresenta oggi l'Oriente detto ciò possiamo passare a quello che è il nostro sistema argomentativo che si compone di tre tesi fondamentali infatti durante questo nostro dibattito vi spiegheremo vi daremo tre motivi per cui noi abbiamo ragione ovvero noi siamo figli di Enea e questo essere figli di Enea ci rende figli dell'Oriente la prima la prima argomentazione vi spiegherà perché perché innanzitutto i romani hanno scelto la figura di Enea come loro fondatore e attraverso questa figura vi spiegheremo cosa cosa simbolizza per noi e cosa ci rende figli di questa figura con la seconda argomentazione che è un argomento di disciplina diversa è un argomento geografico vi dimostreremo come la nostra origine geografica legata all'Oriente ci renda figlia di esso e con la terza argomentazione sempre di un'altra disciplina ovvero l'argomentazione culturale spiegheremo e dimostreremo perché alcuni degli elementi che l'Oriente in quanto padre ci ha tramandato sono essenziali ed inequivocabilmente insiti nella nostra cultura e nella nostra identità in quello che siamo noi oggi senza indugio dunque passerei alla prima argomentazione perché i romani scelgono Enea come loro fondatore i romani al tempo di Virgilio si identificavano profondamente con quella che era la cultura greca e la Grecia per loro era l'Oriente non solo con la cultura greca ma anche quella orientale e cosa vogliono fare vogliono avere un fondatore che rispecchi questa sincronia questa sintesi tra le due culture e cosa fanno? Prendono Enea perché Enea rappresenta la fusione ed è proprio questo che noi in questo dibattito vogliamo su cui vogliamo soffermarci ovvero il simbolo cosa simbolizza Enea cosa ci rende figli di Enea Enea dunque è simbolo per i romani di un sincretismo ovvero di una fusione e sintesi tra due popoli i romani ci insegnano come appunto attraverso il matrimonio di Enea con Lavinia di come la civiltà di come Roma si è diventata civiltà e si è diventata successivamente grande proprio grazie a questa unione e noi non siamo figli di Enea in quanto ne condividiamo gli dei ne condividiamo i costumi siamo figli di Enea in quanto siamo figli di ciò che Enea rappresenta ovvero identificare la nostra identità identificare ciò che siamo come una mescolanza come un condividere e prendere dalle altre culture prego quali conti quali conti quali conti quali conti l'area c'è meglio di Enea beh è veramente evidente nell'Eneide appunto come abbiamo detto attraverso il matrimonio la sintesi la fusione di questo popolo Enea parte non come unico genitore di Roma ma è proprio il fondersi con i latini che erano coloro che già vivevano lì ma che non avevano una base culturale e il fondersi di questa cultura orientale con ciò che c'era già che rende Enea appunto nostro padre ci rende figli di Enea cioè ci rende figli dell'idea di essere identità come due culture infine l'argomento geografico un argomento molto semplice perché è fattuale e vi spieghiamo come la Mesopotamia è considerata culla del mondo la Mesopotamia è quella è quella parte di Medio Oriente considerata la prima in cui si si verificano alcuni si verificano alcuni sistemi che sono quelli di identità e di appartenenza a una nazione ed è per questo che noi siamo figli dell'Oriente perché è da lì che inizia la civiltà come la conosciamo anche altra importantissima cosa è l'Indoeuropeo è un ceppo da cui deriva tutte le lingue del Mediterraneo e questo ci rende inequivocabilmente figli dell'Oriente con questo ringrazio tutti e termino il mio intervento 6 minuti 34 6 minuti 34 e il mio intervento do la parola al primo speaker della squadra contro duri dardanidi quella terra che prima dal ceppo vi produsse degli avi lei stessa nel seno felice vi accoglierà di ritorno l'antica madre cercate qui avrà domi avrà dominio su tutte le terre la casa di nea e i figli dei suoi figli e i figli poi nati da quelli buongiorno a tutti sono nicolo maltana primo speaker della squadra contro e oggi come squadra contro la mozione siamo qui per dimostrare che non siamo figli di nea e che se anche non se anche lo fossimo di sicuro non siamo figli dell'oriente mi associo ai ringraziamenti fatti dalla mia collega primo speaker della squadra pro e prima di presentare la nostra linea di argomentativa avrei da fare alcune confutazioni sulle definizioni date infatti noi squadra contro abbiamo inteso quel noi come civiltà occidentale derivata dalla cultura greco romana e invece quel quell'oriente come l'oriente e occidente contrapposti nella letteratura classica quindi la grecia per noi non è oriente la nostra linea argomentativa verterà su tre punti il primo dimostrerà che storicamente impossibile impossibile improbabile che ci sia mai stato un rapporto di colline di colonizzazione in italia da parte di una città della troade il secondo che a prescindere dal dall'avvenuta spedizione la cultur e nea non è un eroe di cultura greca e il terzo stabilirà che sempre a prescindere dal dall'avvenimento di tale spedizione e nea è un eroe di stirpe occidentale innanzitutto bisogna riconoscere che è sostanzialmente falsa l'affermazione siamo figli di nea essa infatti deriva dal considerare l'eneide virgiliana l'unica l'unica nostra fonte attende l'unica fonte o fonte principale ma è noto che tale poema fu fatto come opera parropagandistica per stabilire la discendenza divina della stirpe giulio claudia in particolare l'ascendenza dalla dea venere inoltre sono pochissime le fonti oltre a virgilio che ci dicono che nea è partito per colonizzare altri luoghi in realtà ad esempio l'iliade ci dice che nea è rimasto a troia a regnare al posto di priamo a questo proposito cito proprio un passo tratto dal ventesimo dell'iliade adesso che il figlio di crono ha preso in odio la stirpe di priamo il fortissimo nea regnerà sui troiani e i figli dei suoi figli e quelli che verranno dopo dunque è molto più realistico pensare che un profugo rimasto totalmente senza ricchezze e senza soldati senza esercito si è rimasto nella sua terra per portare avanti un'opera di ricostruzione piuttosto che intentare una nuova guerra contro gli indigeni del luogo che voleva colonizzare infatti ciò è anche provato dalle scoperte di schliemann a israelic infatti li trovo diverse troie ricostruite varie volte anche dopo la distruzione dei greci a questo proposito strabone scrive omero indica chiaramente che nea rimase a troia ed eredita il regno passandolo poi ai figli dei figli dal momento che la famiglia dei priamidi era stata spazzata via inoltre omero è in totale disaccordo con quelli che parlano di un enea che avrebbe vagato sino all'italia e che in italia lo fanno morire un altro punto a favore è che le vicende dei troiani dei troiani fuggiaschi sono scusate ma voi intendete nea come personaggio storico o mitologico noi lo intendiamo più come sia come personaggio mitologico sia in parte come come personaggio storico intendendo troia come luogo realmente esistito grazie della domanda le quindi le vicende mitiche dei troiani presentano esiti molto più felici di quelle dei greci vincitori ad esempio l'indovino eleno che fonda che fonda che diventa redi dell'epiro o antenore che fonda padova oltre ad enea ma in tutti questi vari luoghi è stato ritrovato vasellame miceneo quindi a padova o nell'epiro quindi questo potrebbe essere più che altro il simbolo di una espansione del commercio miceneo e del commercio acheo e se invece fosse vera una colonizzazione troiana ciò ci porterebbe forse a pensare che troia non è mai caduta come affermava dione di prusa in una sua orazione oppure che che troia non è mai caduta come affermava di una sua relazione e quindi troiani non sono fuggiaschi ma sono semplicemente coloni tutte queste ipotesi ovvero che o enea è rimasto in in patria a regnare e a ricostruire dopo la distruzione di troia o che troia non è mai caduta e quindi enea è semplicemente un uomo che porta avanti un'opera di colonizzazione oppure che si tratti di un'espansione commerciale micenea ci portano a pensare che non ci sia un rapporto commerciale c'è un rapporto genetico tra romani e oriente con questo concludo il mio intervento grazie a tutti sei minuti e cinque grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Do la parola alla seconda oratrice della squadra Pro. Buongiorno a tutti, mi voglio ripresentare, sono Rossana Pavan e sono la seconda speaker della squadra Pro. Vorrei anche io iniziare confutando alcuni dei punti portati dai nostri avversari, proprio a partire dalla definizione in realtà. Vorrei ribadire come per noi anche la Grecia è oriente, in quanto la Grecia era oriente per i romani e stiamo parlando in questo momento proprio dell'ambito romano per via delle Neide. In secondo luogo vorrei sottolineare come il personaggio di Enea sia un personaggio mitologico, quindi non storico. Non si può parlare di una colonizzazione in senso stretto riguardo ad Enea. Enea è un simbolo, Enea è stato un personaggio eretto a monumento del sincretismo tra cultura orientale e occidentale. È proprio simbolo di un processo che era già avvenuto all'interno della società romana. La cultura greca era stata interiorizzata dai romani. I romani senza i greci non sarebbero stati nulla, non avrebbero avuto nulla della grandezza che sono stati in grado di raggiungere nel corso della loro storia. E appunto voglio proprio sottolineare come Enea non sia per nulla un veicolo materiale, ma sia semplicemente un simbolo, un personaggio mitologico, letterario. Prego. Sono consapevoli del fatto che quando Roma conquistò la Grecia aveva già conquistato tutto quanto il bacino dell'Enea? Certo, ma la cultura greca è molto di più. La cultura non è da legare ai confini territoriali. Può arrivare, giungere in un paese anche prima che il bacino originario di questa cultura sia conquistato. Vorrei ora dedicarmi all'esposizione della nostra terza tesi. Vogliamo sottolineare come la nostra cultura odierna, quindi vogliamo arrivare al noi, sia ancora profondamente legata a quella orientale, in particolare a quella greca e araba. Ci sono diversi aspetti della nostra cultura, a partire dalle discipline sia umanistiche che scientifiche, che proprio dobbiamo a greci e ad arabi. Ad esempio l'astronomia. L'astronomia è stata inventata proprio dai greci e anche ovviamente portata avanti dagli arabi. Senza il sistema aristotelico non sarebbe nata l'astronomia moderna, in quanto non ci sarebbe mai stato un punto di inizio di questa meravigliosa disciplina. Perché? Le osservazioni di Aristotele, che sono le osservazioni più immediate, più naturali che l'uomo può fare, sono servite come base per il progresso successivo. Ovviamente è un sistema superato, ma se noi togliessimo questa componente, l'intero sistema cadrebbe. È come fare un castello di carte e poi togliere le carte che stanno alla base. Tutto crolla. Vorrei anche parlare della matematica. È noto che noi utilizziamo i numeri arabi, non ad esempio i numeri romani. Sarebbe impossibile con i numeri romani dedicarci all'aritmetica per come la intendiamo noi oggi. Il concetto di zero è pervenuto proprio dall'Oriente. Immaginate fare matematica senza conoscere lo zero. Sarebbe totalmente impossibile. Voglio arrivare ora alle discipline più umanistiche. alla filosofia, la regina delle scienze per eccellenza. Dove è nata la filosofia? In Asia Minore. Da chi è stata portata avanti la filosofia in prima battuta? Dai greci ad Atene. A Roma non troviamo ad esempio dei filosofi. Troviamo semplicemente una rielaborazione della filosofia greca. E la filosofia greca sta alla base della filosofia moderna. Se non fosse stata inventata, oggi saremmo un popolo sterile. La filosofia è stata poi successivamente la base di ogni altra disciplina delle scienze stesse. Non dimentichiamoci che i filosofi inizialmente erano anche fisici. Un altro ambito particolarmente importante per un popolo è quello della religione. Le grandi religioni monoteiste che ancora oggi dominano la scena europea e non sono nate proprio in Oriente. In particolar modo in Palestina. Derivano infatti tutti dalla religione ebraica. Il cristianesimo inoltre vede un apporto anche da parte della filosofia greca. In particolar modo ellenistica. Prendiamo ad esempio l'Uno di Plotino. Questa divinità creatrice. Vorrei infine parlare della politica. Della democrazia. La democrazia è proprio il grande dono che ci è stato fatto dai greci. Il senso di appartenenza al nostro Stato, alla nostra patria, ci proviene proprio dalla polis greca. Il concetto di dibattito, di assemblea popolare, di partecipazione popolare alla politica, ci proviene dalla Grecia. Senza i greci oggi non saremmo quello che siamo. Vorrei concludere facendo un breve recap delle nostre argomentazioni. In primo luogo noi sosteniamo che Enea sia simbolo del sincretismo culturale che ancora oggi è portato avanti tra Oriente e Occidente. Vogliamo sottolineare come il geograficamente in quanto popoli di ceppo indoeuropeo deriviamo dall'Oriente. Infine voglio sottolineare come la nostra cultura fondi le proprie basi, le proprie origini nella cultura orientale. Con questo ringrazio i miei avversari e concludo il mio intervento. Sei minuti e dodici. Grazie. Grazie. Do la parola al secondo oratore della squadra contro. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ilya Stazzi e sono il secondo oratore della squadra contro. Innanzitutto mi preme confutare alcune affermazioni fatte dalla speaker che mi ha preceduto. La squadra pro infatti, già a partire dalle definizioni, confonde il criterio geografico con il criterio culturale. Loro infatti intendono per Oriente tutto ciò che si trova ad est di Roma, arrivando anche a mischiare la cultura di popolazioni indoeuropee, di cui fanno parte anche i greci, con la cultura semitica, quindi propria dell'aria della mezzaluna fertile. Inoltre, in questo modo, danno sì per scontato, dicendo che siamo figli dell'Oriente, danno però per scontato la prima parte della mozione. Cioè, non ci dimostrano che siamo veramente figli di Enea, che Enea è arrivato nel Lazio a fondare una colonia. Ci dicono solo, sì è vero, siamo figli dell'Oriente. Ma perché? Perché ponendo Enea solamente a simbolo, quindi sistemandolo su un piano di atemporalità, arrivano ad attribuirgli tutte le influenze orientali che ha avuto il mondo occidentale e l'Europa. Hanno citato, per esempio, la democrazia, l'invenzione dello zero, ma sappiamo che, per esempio, l'invenzione dello zero era sconosciuta ai romani, oppure anche la democrazia non è mai arrivata a Roma nelle misure in cui è attestata in Grecia. E dunque, in questo modo, non fanno altro che prescindere dalla storicità, ma anche dal simbolo di Enea, e porlo solamente a misura di quell'incontro che è normale che avvenga fra popolazioni, però nell'arco di un tempo molto più vasto. Passando ora al nostro secondo e terzo punto. Nel secondo punto, intendo dimostrare come, se anche fosse che Enea sia realmente un eroe troiano e dunque orientale, questo non implica che la sua cultura abbia qualche legame con l'Oriente. Pensiamo già alla frase che ci viene posta nella mozione a Corredo, la frase dell'Eneide, in cui si parla di Enea che arriva con questi deos che portano Anchise a Roma. Ma che eredità portano questi deos? Portano un'eredità orientale? Se noi vediamo come ci vengono descritti da Omero nell'Iliade sia gli eroi troiani che gli eroi greci, non notiamo queste grandi divergenze culturali. Hanno lo stesso orizzonte valoriale, venerano gli stessi dei, sono, e credono entrambi, negli stessi valori, hanno lo stesso rapporto con la divinità. E dunque, i penati che Enea porta con sé a Roma sarebbero essenzialmente simbolo della grecità che infatti noi non intendiamo come Oriente. Enea arriva a Roma non con un bagaglio orientale. Enea arriva e porta con sé quelli che sono i valori dell'Occidente. Infatti noi, nella sua figura, non vediamo nessun valore che non sia conforme a quello della grecità o a quello anche dell'omericità propriamente intesa. Se poi, però, vogliamo guardare da un altro punto di vista ancora, magari un po' provocatorio, possiamo riconoscere, se vogliamo riconoscere, anche nella Grecia, all'Oriente, possiamo prendere un'argomentazione che viene fatta da Tertulliano, un'apologeta del secondo, terzo secolo dopo Cristo. Che cosa dice? Dice che Enea in realtà non rappresenta neanche i valori della grecità. Perché? Perché ci dice Pio Enea per via di un unico figlio e un vecchio decrepito dopo aver piantato in assopriamo una stianatte, semmai i romani dovrebbero detestarlo. Oppure ci dice che cosa ha fatto di glorioso Enea se non scomparire durante la battaglia di Larento. Quindi non è altro che un disertore, non ha nessuno di quei valori, se vogliamo ritenere l'omericità come valori greci, che in realtà la squadra avversaria sostiene che abbia. Inoltre, passando al terzo punto, se vogliamo anche sostenere magari che abbia un qualcosa della cultura, arriviamo anche a dire che Enea in realtà rifiuta la domanda, non è neanche propriamente orientale. Perché? Ammettendo anche che sia un principe troiano, abbiamo delle testimonianze come quella di Onigi di Alicarnasso in cui ci viene indicato lo stesso popolo di Troia originario della Grecia in questo caso. Però è lo stesso Virgilio che invece ci dice una cosa ancora più possiamo dire spiazzante, no? Venere dice ad Enea che il sangue Teucro deve ritornare all'origine. E Enea ci dice anche che cerco la patria Italia e la culla della mia razza. Cioè, alla fine Enea non ha nulla a che fare con l'Oriente perché la sua non è una colonizzazione ma è un ritorno all'origine. Quando Apollo gli fa la profezia in cui deve ritornare alla madre terra all'inizio Enea cerca questa madre terra a Creta da dove pensava discendesse la sua stirpe quella di Dardano. Però in realtà quando arriva a Creta che cosa trova? Trova una terribile pestilenza e dunque si rende conto che la sua vera origine non sia a Creta quanto in Italia. Grazie mille. Sei minuti e otto. Grazie mille. Grazie. Do la parola alla terza oratrice della squadra Pro. Buongiorno a tutti, sono Francesca Viarengo e sono la terza oratrice della squadra a favore della mozione, che ripetiamo essere, siamo figli di Enea e quindi dell'Oriente, oppure e dunque dell'Oriente. Di conseguenza le due cose sono collegate e quindi io vorrei prima di tutto far notare come i nostri avversari stiano tentando di separare le due. La mozione stessa indica che Enea è il simbolo dell'Oriente, la mozione stessa indica che l'Oriente è fondamentalmente Enea e quindi non possiamo separare le due cose. Infatti noi sosteniamo che Enea non sia tanto il personaggio mitologico, il personaggio storico che i Romani utilizzano nell'Eneide, che è nominato nell'Iliade. Quanto più il simbolo che egli rappresenta, quindi che sia il simbolo del sincretismo culturale, che sia il simbolo del profugo, della fusione di culture, del multiculturalismo. Noi siamo figli di Enea perché? Perché noi siamo figli di questa matrice culturale, siamo figli dell'ideologia che Enea rappresenta, dell'ideologia che ci spinge appunto a prendere tantissimo dall'Oriente, come già le mie compagni hanno specificato nelle precedenti argomentazioni. Poi inoltre vorrei fare una piccola precisazione, ovvero che nonostante gli indoeuropei e i semiti siano due matrici culturali diverse, entrambe provengono comunque dall'Oriente, anche al di fuori della Grecia, quindi anche noi non volessimo considerare la Grecia Oriente, cosa che noi personalmente riteniamo errata, perché appunto la Grecia si trova all'Oriente ed Enea, essendo di origine diciamo greca e rappresentando l'Oriente in questa mozione, la Grecia deve essere per forza considerata Oriente. In ogni caso comunque sarebbero, gli indoeuropei e i semiti sarebbero in ogni caso orientali o comunque Oriente anche tuttora, perché gli europei provengono dalle steppe dell'Asia, mentre invece i semiti provengono appunto dalla zona del vicino Oriente. Inoltre una piccola precisazione, voi avete specificato che i romani non conoscevano lo zero e quindi appunto non l'abbia portato Enea, ma di conseguenza lo zero è stato appunto portato dagli arabi. Se noi consideriamo Enea come veicolo dell'orientalità, se noi consideriamo Enea come simbolo, come inizio di un processo culturale, allora a quel punto dobbiamo considerare anche tutto ciò che viene dopo ed è innegabile che i numeri arabi siano il fondamento della matematica, della geometria moderna e quindi non possiamo assolutamente evitare di considerare tutto l'apporto che anche le culture più a est rispetto alla Grecia stessa abbiano portato. Prego. Quindi voi collegate i valori che Enea porta con sé con quelli degli arabi? Più che i valori colleghiamo il valore che Enea stesso ha, quindi non colleghiamo l'idea di Enea come Pius, di Enea come personaggio che ha fatto il suo viaggio eccetera, ma noi consideriamo Enea come veicolo, come potrebbe essere per esempio Dioniso nelle Baccanti che è venuto dall'Asia e ha portato la pazzia e tutto ciò che avviene poi nelle Baccanti. Enea per noi è lo stesso personaggio, è solamente un simbolo e infatti Enea, siamo figli di Enea perché? Perché noi siamo figli appunto di questo simbolo, siamo figli di questo modo di pensare, di questo modo di approcciarci alle cose, di questo aggiungere alle nostre basi, alle nostre culture altre cose che sono altrettanto fondamentali come potrebbe essere l'astronomia che appunto anche essa è nata dall'Asia, pensiamo per esempio a Leopardi che attribuiva al pastore errante dell'Asia un ruolo così fondamentale, oppure la religione nata appunto dal Vicino Oriente è fondamento della nostra società moderna, noi siamo figli del cristianesimo, siamo figli dell'ebraismo, siamo figli del monoteismo, sicuramente non figli del politeismo che i romani avevano. Inoltre siamo anche figli della filosofia, ma della filosofia non solamente la filosofia greca, certo la filosofia è nata in Grecia, la Grecia è in Oriente quindi siamo comunque figli dell'Oriente, però la filosofia non è solamente rappresentazione della Grecia ma è rappresentazione anche dell'estremo Oriente, pensiamo a Confucio per esempio, noi siamo sicuramente figli di questa filosofia, siamo figli dell'arte della guerra per esempio, sempre scritta in Cina, ma anche la politica, i fondamenti della nostra società, della nostra civiltà sono nati proprio in Mesopotamia, quindi in Oriente. Vorrei passare l'ultimo minuto del mio intervento a riassumere brevemente le nostre linee argomentative. Abbiamo quindi la prima, ovvero che Enea è il veicolo il simbolo del sincretismo culturale, quindi di conseguenza noi siamo figli di Enea perché figli di questo sincretismo culturale. La seconda è che siamo geograficamente e storicamente e indubbiamente figli dell'Oriente perché siamo figli degli indoeuropei, della Mesopotamia che appunto si trovano all'Oriente. La terza è che le nostre radici culturali, scientifiche religiose, provengono in buona parte sia dal vicino Oriente, che potremmo considerare sia appunto il Medio Oriente moderno, sia anche la Grecia, se lo guardiamo dal punto di vista dei romani, ma anche dal lontano Oriente o comunque da più lontano, come potrebbero essere gli arabi, come potrebbero essere le popolazioni del sud-est asiatico. e con questo concludo il mio intervento e vi ringrazio per l'attenzione. 5 minuti e 59 5 minuti e 59 5 minuti e 59 Buongiorno a tutti, sono Alessandro Bellusci e sono il terzo oratore contrario della squadra contraria alla mozione di cui stiamo dibattendo oggi. È evidente come tutte quante le opposizioni che si siano create intorno a questo dibattito vertano sulle definizioni. Tendenzialmente un buon dibattito non è un dibattito in cui si discutono le definizioni, ma purtroppo ci troviamo costretti a discutere proprio di questo. Perché è evidente che la cultura orientale e la cultura greca abbiano influenzato nel corso dei secoli, dei millenni, la cultura occidentale. Questo nessuno lo sta mettendo in dubbio, perché evidentemente quando due culture entrano in contatto per scambi commerciali, per contatti di tipo militare, bellico, è evidente che ci siano sempre degli scambi culturali, si crei sempre una relazione. Ma non siamo chiamati a discutere di questo. Vi invito a rileggere con attenzione la mozione. La mozione è formata da una implicazione. Siamo figli di Enea e quindi siamo figli dell'Oriente. Ora noi, in quanto squadra contraria, abbiamo deciso di procedere nel modo più analitico e serrato possibile. Innanzitutto abbiamo dimostrato che non siamo figli di Enea e in seguito abbiamo dimostrato che, anche ammettessimo che siamo figli di Enea, comunque l'implicazione è falsa. Quindi, al di là di tutte quante queste belle parole che voi avete evocato sulle tecniche, sui nostri sistemi valoriali che sono derivati dall'Oriente, la mozione non ci sta chiedendo di parlare di questo. Innanzitutto, la prima grande ambiguità che è stata creata dalla squadra a favore è quello di confondere Oriente e Grecia. Ora, tutta quanta la manifestazione si fonda sul dibattito, sulla discussione, sul rapporto dialettico che nella letteratura greca è sempre esistita tra Oriente e Occidente, tra Europa e Asia. Pensiamo per un attimo a Erodoto. Erodoto, quando nel primo libro delle sue storie parla della guerra di Troia, parla di quell'evento, assieme ad altri, come di uno dei primi esempi del conflitto che esiste tra Europa ed Asia, tra Greci e Barbari. Quindi, questo rapporto dialettico non bisogna discutere, è sempre esistito e aveva in mente proprio questo Virgilio quando scriveva quel verso. È fazioso, è capzioso credere che per Oriente si debba intendere la Grecia. Pensiamo anche a Eschilo, nei Persiani, nel sogno di Atossa. Europa e Asia, che litigano tra di loro e che Sersi vuole aggiungere, sono due sorelle, ma sono in lotta proprio perché c'era stata la guerra di Troia. Quindi Oriente e Occidente non possono essere Roma e la Grecia, devono essere per forza l'Europa e l'Asia, perché Virgilio ha in mente proprio quel panorama culturale quando parla di quello. Tra l'altro, il fatto che i Romani considerino la Grecia come Oriente deriva da un preciso dato culturale, da un preciso dato storico, cioè che a un certo punto, nel corso del IV secolo, Alessandro Magno conquista l'Impero Persiano e da quel momento, agli occhi dei Romani, la cultura greca e la cultura orientale persiana si fondono. Quando viene emanato il Senatus Consultum de Baccanalibus, si parla di costumi greci, ma è evidente che siano costumi che derivano dall'Oriente. Infatti avete citato voi stessi le Baccanti. Dioniso è un culto che è estraneo già per i Greci. Quindi non bisogna confondere Grecia e Oriente. Considerare Grecia e Oriente è del tutto infondato, anche perché Virgilio sapeva bene che le influenze greche sulla cultura romana, che noi non mettiamo in dubbio, erano arrivate molto dopo la fondazione di Roma. Quindi non c'è questo rapporto di filiazione. La prima rappresentazione teatrale a Roma avviene nel 240, dopo che Taranto viene conquistata. Quindi c'è proprio un rapporto anche errato di tipo cronologico. Poi avete parlato tanto di Enea come simbolo, ma noi vi abbiamo dimostrato che Enea come simbolo è stato utilizzato solamente per uno scopo propagandistico, cioè quello di legare la discendenza dei Giulio Claudi, cioè di Augusto, alla stirpe di Venere. Infatti c'erano delle tradizioni mitiche che associavano anche la figura di Odisseo, che era ben più famosa e ben più celebre di quella di Enea nel contesto della guerra di Troia. Però perché non è stato scelto di Isseo? Non è stato scelto di Isseo proprio perché serviva questo attacco propagandistico, questa concezione propagandistica. Quindi è impensabile riconoscere che ci sia stato un contatto diretto tra Oriente e Occidente che ha fondato la cultura romana arcaica. Detto ciò, c'è stato un errore anche evidente nella definizione del noi, perché voi prima avete parlato di noi come noi odierno, ma noi odierno deriviamo già dalla fusione di Roma e Grecia. Poi vi siete messi a parlare degli arabi, degli influssi cristiani che avvengono molto dopo la completa formazione di questa civiltà classica che nasce dall'incontro di Roma e Grecia, ma di due realtà che sono uniche, che sono completamente legate all'interno del contesto europeo e del contesto occidentale. Per non parlare poi del fatto che avete affermato che in realtà la cultura greca deve essere per forza una filiazione, un frutto della cultura mesopotamica orientale. Effettivamente ci sono una serie degli storici che hanno provato a dimostrare questa diretta connessione, per esempio, della Grecia rispetto a Egizi e Fenici e anche ai mesopotamici, ma è stato completamente smontato da tutto quanto il mondo accademico. Poi appunto si è parlato della filosofia che nasce in Medio Oriente, certo, ma nasce dalle colonie greche in Medio Oriente, quindi non ce n'è anche il nesso. È stato parlato del cristianesimo, è stato parlato dei numeri arabi, ma è evidente che queste sono connessioni, sono influssi e apporti che sicuramente derivano dopo la formazione completa della civiltà occidentale e che soprattutto devono essere considerati degli apporti e non dei fatti che ci dimostrino l'affiliazione dell'Occidente dall'Oriente. Grazie. 6 minuti e 13. Grazie. 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 Della parola alla replica della squadra contro. Buongiorno. Allora, siamo ormai arrivati alla conclusione di questo dibattito e il punto di scontro principale sarebbe dovuto essere quello fra Oriente ed Occidente, no? comprendere di quali valori Enea è portatore, ma innanzitutto comprendere se siamo veramente figli di Enea. La squadra avversaria, infatti, ha invertito la mozione. Ci ha spiegato perché siamo figli dell'Oriente, ma non ci ha dimostrato quale sia il collegamento fra l'Oriente ed Enea. Hanno infatti parlato di sincretismo, no? Ritengono Enea il simbolo della fusione di varie culture. Ma noi, invece, sosteniamo che Enea non abbia nulla di orientale. Anzi, Enea sia proprio il simbolo dell'Occidente, il simbolo della Romanità propriamente intesa. Infatti, quando arriva in Italia, non è lui il vero usurpatore, non arriva da profugo, ma anzi ritorna alla sua terra d'origine. Quello che fa lui non è solamente un ritorno a quella che è la terra fin dall'inizio promessa ai suoi discendenti. E con questo ritorno, in questo ritorno, noi possiamo leggere la supremazia che ha il mondo occidentale su quello orientale. Infatti, Enea con sé, possiamo anche sostenere che sia un principe troiano, però con sé che cosa porta? Porta i valori dell'Oriente? Porta qualcosa che possa essere collegato alla Persia, all'Asia? No! Porta con sé quelli che sono i valori propriamente della Romanità. Enea viene descritto come Pius e fedele nei confronti degli dèi, nei confronti del padre Anchise, nei confronti della patria. Pensiamo, dunque, se vogliamo seguire, infine, quello che dice la squadra avversaria, al sincretismo. Qual è l'apice del sincretismo a Roma? L'apice del sincretismo a Roma è rappresentato dall'imperatore Ilio Gabalo, che prende proprio il nome di un dio orientale. Però, alla fine, qual è la fine di questo imperatore? Questo imperatore subisce la damnatio memorie. Tutto quello che ha fatto viene dimenticato. Perché? Perché rappresenta tutto il contrario della Romanità. I Romani non si riconoscono in questo sincretismo. I Romani si riconoscono, invece, e si riconosceranno per tutta la loro esistenza, nei valori di Enea e dunque nei loro valori. Enea dunque rappresenta non l'Oriente, ma l'Occidente e la Romanità stessa. Grazie. Tre minuti e tre. Per finire, do la parola alla replica della squadra Pro. Buongiorno nuovamente. Io sono l'ultima oratrice di questo dibattito e vi spiegherò perché noi, squadra Pro, abbiamo vinto questo dibattito e perché abbiamo dimostrato che le argomentazioni contro non sono valide, in sostanza. Abbiamo dimostrato soprattutto ciò che è fondamentale, ciò che è stato fondamentale in questo dibattito, che la chiave in questo caso è la contestualizzazione. La contestualizzazione che noi abbiamo dato chiaramente nelle nostre definizioni e che è l'interpretazione più giusta di questa mozione. non è la ricerca unidirezionale e mi permetterete bigotta ed erudita, colma di dati senza importanza e citazioni poco coerenti, questa ricerca che ha caratterizzato l'argomentazione contro. il nostro modo di esprimerci e di contestualizzare quella che è la mozione è stato migliore perché anche nei punti di scontro, grazie a questa migliore contestualizzazione, abbiamo dimostrato che la nostra maniera di definire Enea è stata migliore perché, appunto come abbiamo dimostrato, Enea non è da essere inteso come personaggio storico, non è da essere inteso come semplicemente un corpo che per forza di cosa aveva le sue proprie virtù diverse da ognuno degli altri suoi contemporanei. Anche nella definizione di Oriente abbiamo dimostrato come la matrice di Enea è greca e come per questo la Grecia deve essere considerata quando parliamo di Oriente. Abbiamo in questa definizione, come appunto ho già detto, ribadito il concetto fondamentale di contestualizzare, di capire, di ricercare più a fondo quello che è la verità e ciò di cui questa mozione ci vuole far parlare. Attraverso le nostre tre tesi abbiamo dimostrato che Enea è simbolo di orientalità, ma prima di tutto abbiamo dimostrato che noi siamo figli di questa idea che Enea rappresenta, di questo sincretismo che rappresenta la fusione con un'influenza orientale, un'influenza che noi abbiamo dimostrato, abbiamo detto chiaramente, essere fondamentale nella nostra identità, nella nostra identità di oggi. Vorrei terminare il mio intervento con una piccola riflessione. Alla fine noi facciamo classico, studiamo al liceo classico e il liceo classico, gli studenti del liceo classico sono senza dubbio la maggiore consapevolezza di questo sincretismo di popoli e la maggiore consapevolezza dell'importanza di essere aperti agli altri popoli e l'importanza di conoscere ciò che siamo, ovvero figli dell'Oriente. 3 minuti 17. Direi che gli oratori si meritano un bel applauso. Invece lasciamo i giudici riflettere, quindi li invitiamo ad andare nella stanza accanto, così si danno il cambio. No, no, voi state pure lì tranquilli. Voi state lì, i giudici soltanto vanno. Possono, sì, se devono allontanarsi un attimo per altre ragioni, possono andare tranquillamente, altrimenti sono seduti. Sì, non li leghiamo. Fuggono. Vabbè, non proprio tu, datevi il cambio. Ora tocca alla giuria, effettivamente, alla giuria il compito arduo, devo dire, di decretare il vincitore. I ragazzi sono stati veramente bravi, sono stati tutti bravi e professionali, sia le squadre, sia la nostra moderatrice che, diciamolo, non è la prima volta che modera, ma è il suo debutto invece in un ambiente come questo. Prima faccio qualche riflessione io, poi cedo volentieri la parola. Sono stati bravi perché faccio notare che il dibattito non è stato soltanto... erano bravi, i dibattenti adesso stanno discutendo... bloccateli, fate qualcosa. Il momento del consulto con i compagni con cui hanno lavorato, evidentemente. Giusto? Ok. Dicevo, sono stati bravi perché, al di là dei contenuti, sicuramente si erano preparati molto, quindi si vedeva che erano in grado di padroneggiare i contenuti anche senza... basandosi sugli appunti che avevano ma senza leggere. E questo è un grande pregio. Di solito, a parte chi inizia, perché ovviamente non dovendo replicare a nessuno, ha in parte il discorso preparato, ma gli altri hanno non soltanto parlato ma anche ascoltato. A volte capita, a parte nei dibattiti quotidiani, in cui capita sempre, ma anche in alcuni dibattiti capita che ciascuno porti avanti la propria argomentazione senza rispondere all'altro. Invece in questo caso sì, siete stati tutti puntuali, avete ribattuto in modo anche molto efficace. Faccio notare, utilizzandosi il linguaggio per la comunicazione, ma anche il paraverbale e non verbale. nel senso che il paraverbale perché avete posto l'accento sulle parole giuste, nel modo giusto, aiutando tutti noi e sicuramente anche i giudici a seguire l'argomentazione. È molto importante, a volte si sente parlare in monotono e non si riesce più a seguire il discorso. Invece voi ci avete aiutato col gesto, appunto, col linguaggio non verbale, lo sguardo, il cenno a seguire. E questo è pregevole perché, insomma, se siete giovani avete sicuramente fatto dell'esercizio, ma sicuramente anche una dote. Abbiamo del tempo perché presumo che discuteranno per un po'. Intanto, pro contro, siete stati soddisfatti dell'estrazione? Uguale. Vabbè. Una critica all'emozione? Piaciuta o non piaciuta? Sentitevi liberi. Tanto io non sono al giudice. Ci sarebbe stato di meglio. No, il problema era l'implicazione. Mi rendo conto anche per la squadra avversaria, perché cioè l'Oriente in generale poteva andare bene, ma è l'implicazione con Enea che rendeva il tutto più complesso. Più complicato, questo sì. E non è stato neanche facile trovare le emozioni dato l'argomento che, naturalmente per tradizione, gli argomenti della disputa si avvicinano al tema generale e quindi, giustamente, sì, Enea, insomma, dovevate essere voi ad essere bravi a declinare un po' i termini e effettivamente lo siete stati. Io faccio le riserve, quindi non dovrei parlare, però parlo ugualmente. Ma no, è diritto di parlare, ma ci mancherebbe. Non hai parlato finora, anzi, parli dalle riserve. Adesso faccio io. 18 minuti di argomentazione. No, dicevo che, secondo me, il problema era che l'Oriente è un termine abbastanza vago, perché io posso intendere Oriente Troia, Oriente Persia, Oriente i Sumeri, Oriente la Grecia, Oriente Bizantino, Oriente gli Arabi. Infatti, toccava a voi anche cogliere i vari aspetti o comunque, sì, creare dei confini in base a quello che dovevate dimostrare, giustamente. E poi chiederei al Professor Ventre se ha qualche domanda per... ecco. Però sì, se avevate preparato qualche argomentazione che non è stata presentata. Molto diverse. Prendi il microfono. Allora, abbiamo avuto difficoltà noi, premetto comunque. Allora, la prima in realtà era, cioè l'ultima era abbastanza simile a quella che hanno detto loro sull'illegittimità di Enea come che in realtà è solamente un simbolo di Venere, eccetera, propagandistico e in realtà non ha nulla di orientale e neanche di troiano in realtà. Poi, aspetta, sono molto confuso da questa vista. Che noi non siamo figli né dei Romani né dei Greci né dell'Oriente perché siamo troppo lontani nel tempo rispetto a quello che l'Oriente rappresentava al tempo e ora abbiamo una distinzione netta dopo lo scisma d'Oriente, eccetera. Quindi c'è stato proprio un distacco netto negli ultimi secoli che non ci ha permesso di acquisire nuove, diciamo, consapevolezze simili. Sì, figlio è troppo vicino come definizione da dare, al massimo siamo dei lontani discendenti. E poi, vabbè, l'ultimo era di cosa siamo figli, perché noi siamo figli degli ultimi due secoli quindi della rivoluzione industriale, della rivoluzione francese, proprio a livello di impronta socio-economica siamo interamente, diciamo, di matrice occidentale perché la nostra concezione moderna di politica, di massa, eccetera, e la nostra concezione anche del mondo del lavoro, della produttività è interamente di matrice occidentale degli ultimi due o tre secoli al massimo. Quindi, cioè, erano quelli. Noi invece, quando abbiamo dovuto definire i termini, abbiamo avuto anche noi la tentazione di fare questa cosa, di definire Oriente come Grecia, ma poi abbiamo in realtà preferito, appunto, come abbiamo poi spiegato nella nostra argomentazione, anche contro tenere gli stessi termini sia per pro e per contro perché ci sembravano più adatti. E quindi, in sostanza, innanzitutto andavamo a dimostrare che, innanzitutto, che Enea poteva effettivamente essere un simbolo dell'Oriente perché se noi leggiamo Omero, se noi leggiamo la maggior parte delle fonti, non è così scontato dire che Enea è un eroe orientale, no? Perché, in fondo, in Omero, per esempio, i costumi e i usi di Achei e Troiani non sono così distanti e quindi avremmo citato anche, per esempio, il fatto che esistono già altre fonti precedenti a Virgilio che parlano di questa connessione tra Enea e la fondazione di Roma e, dopodiché, andavamo a parlare, distinguendo due momenti, tutti quanti quegli apporti che derivano dall'Oriente per la formazione prima della cultura greca e poi della cultura romana, quindi, innanzitutto, tutti quanti gli apporti, soprattutto delle civiltà egizie e egizia e fenicia e poi successivamente come anche Roma abbia definito la sua identità nel corso della sua formazione, dei secoli della sua storia, anche proprio rispetto al confronto con l'Oriente. Quindi, ecco, abbiamo preferito mantenere entrambi i casi per maggiore uniformità, per maggiore, secondo noi, chiarezza, i termini del rapporto dialettico tra Europa e Asia, come abbiamo detto anche nel conto. Più che altro, secondo me, il problema che è nato da questa mozione è il fatto che siamo finiti a discutere sulle definizioni, ma per forza perché erano talmente vaghe che ognuno diceva la sua e poi ovviamente l'altro doveva rigirarla. Cioè, fosse stata un po' più, magari siamo figli, che ne so, dell'Asia minore, allora lì si poteva entrare un po' più nel... Alla fine, per forza qua bisognava discutere sulle definizioni, secondo me. Quindi, si è finito un po' in un circolo vizioso. Con Enea, cioè, il rapporto che poi aveva con Enea. La difficoltà era quella, la difficoltà è collegare in Enea, l'Oriente. Eh, sì. Più che altro il rischio che poi è stato corso, cioè si poteva correre, però secondo me l'abbiamo, cioè entrambe le squadre poi alla fine l'abbiamo gestito, era una squadra che diceva sì, noi siamo figli della Grecia e la squadra avversaria che diceva no, noi non siamo figli della Persia, ok? Però, cioè, praticamente il rischio era di darsi ragione perché si stava parlando di due cose diverse. L'Asia è abbastanza grande come continente. Un attentato. L'Asia è abbastanza grande come continente, quindi cercare di trovare un Oriente che potesse essere valido sia per sostenere la propria tesi, sia per escludere un'eventuale tesi avversaria, questa forse è stata un po', diciamo, la sfida. Ma bisogna adesso capire i giudici come l'hanno intesa, perché c'è, io ho notato il rischio che forse siamo andati su due piani paralleli, cioè non c'è stato quello scontro che ci dovrebbe essere. I giudici valuteranno sicuramente sulla base di quello che avete detto, su come avete argomentato, indipendentemente dalla loro prospettiva iniziale, quindi loro possono essersi anche immaginati tutto un altro dibattito, ma poi valutano quello che hanno visto, per carità. Sono oltretutto tutti e tre molto esperti, quindi sapranno valutare nel migliore dei modi. Avete una buona giuria, quindi potete essere tranquilli da questo punto di vista. Anche tra il pubblico, se qualcuno avesse delle domande da porre ai ragazzi o qualche osservazione da fare... Tanto l'impressione è che abbiamo tempo. un po' là ci sono i vostri compagni. Alzate le palestre. Chi ha vinto? Come diceva Regino Margherino. Vi alto le voto. Loro sono venuti con la clac, voi da soli? Che clac? No, non abbiamo clac. Ah, solo una. Ah, ok, ok. Il professore però... No, il professore sì, certo. E voi di dove siete? Gioberti? E la classe è laggiù? Ivrea. Ah, Ivrea. Ah, il bordo. Benissimo. Dibattete anche voi? Ah, per il tolto. Ah, sì, 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 sì. Ci è stato detto. C'è una domanda? Sì. Una domanda per i dibattenti ma anche per il professore nel senso che l'intervento è stato molto interessante quindi se qualcuno ovviamente avesse qualche osservazione qualche richiesta di precisazione ben venga. Fate silenzio però. Sì. Quello che diamo in tempo a noi. Grazie. 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 La scelta di andare sull'ambito culturale è stata sicuramente nostra, però c'è anche da dire che la struttura del debate è abbastanza rigida. Il problema del debate è che deve essere molto schematico, quindi bisogna avere delle argomentazioni semplici da argomentare, molto chiare, e quindi non si può andare tanto sui tecnici. Se stessimo facendo un discorso così sarebbe stato anche molto più facile introdurlo, invece così deve essere praticamente un elenchino perché è così che funziona, altrimenti non si riesce proprio fisicamente. Solo una cosa, per dimostrare un sillogismo è necessario spiegare le due parti di un sillogismo ed è in questo momento che entrano in gioco le nostre argomentazioni culturali, proprio per spiegare se questo è vero, questo è vero, questo lega questo all'altro, allora la vozione è vera, diciamo che è necessario spiegare entrambi. Sofì è andata a cercare di capire a che punto sono i giudici, intanto vi faccio una domanda difficilissima, ma avete per caso già guardato la mozione della finale o per scaramanzia non l'avete ancora toccata? No, toccata no, letta. L'avete letta? Letta, ma l'avete lasciata lì in attesa. Se avesse vinto è Antonio. Glopata è Antonio. Se qualcuno vuole dire qualcosa sulla mozione. Qualcuno ha idea? La nuova, sì sì sì, è più storica. Qua ci si picchia sulle fonti però, eh? Eh beh sì. Secondo me è molto interessante la terza mozione, per il fatto che non si può dimostrare che una sia vera e l'altra sia falsa. È questo il problema? No, però è la sua unicità, cioè il fatto che nelle altre due si può dimostrare, no? Questa persona dice no, però nell'altra ti dai delle idee, alla fine dai delle idee che devono essere il più convincente possibile. Sì, il problema è la confutazione, forse, io non mi occupo di quello. Sì sì sì, il problema è che, cioè, non è tanto un problema, è che sono due emozioni proprio di tipo diverso. Questa era una mozione di fatto, quindi noi dovevamo dimostrare se fosse vero o falso. Lì non è tanto se è vero o falso, ma è più in termini valoriali. Comunque, appunto, a noi, così leggendo, è sembrata molto più interessante quella della finale che quella delle semifinali, quindi vedremo. E anche l'altra mozione delle semifinali non era tanto. Sì, ma... L'altra era ben peggiore. Anch'io sono di questa idea. Avrei voluto vivere, che è simile a quella della finale, di oggi pomeriggio. Io non so voi da quanto abbiate lavorato sulla mozione, però lavorare su una mozione prettamente storica, in cui devi andarti a guardare tutte le fonti, l'economia del tempo, risulta più dispendiosa a livello di tempo. Sì, anche complesso perché abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla. Diciamo che... Veramente richiedeva conoscenze molto specifiche. Perché adesso togliamo il microfono, perché adesso, diciamolo, il dibattito crea delle amicizie, crea delle relazioni. L'abbiamo dimostrato, non l'ho detto, forse l'ho anche dimenticato di dirlo, ma effettivamente già nelle edizioni passate, alla fine scoprivamo che andavano tutti a mangiare fuori quelli che abitavano in zona. Con voi è un po' più difficile, però, beh, insomma, non siete così lontani, fondamentalmente si può anche fare. Non un giorno dello sciopero dei treni, però si può anche fare. E lo vediamo, perché discutono delle emozioni, come hanno lavorato, qual'era la migliore, quale la peggiore, a noi fa molto piacere, in realtà. Diciamo che loro conoscono, potenzialmente conoscono le emozioni da fine, dall'estate, perché le abbiamo fatte uscire giugno. Giugno? Fine giugno. Non dovevo rivelare questa cosa. Comunque, poi in realtà c'è un ITER, aspetta, finisco la fase. C'è poi un ITER, però, tale per cui la comunicazione non sempre, insomma, arriva rapidamente alle scuole perché è il periodo di vacanze, eccetera. Quindi, settembre, ottobre, i ragazzi conoscono le emozioni. Le conoscono tutte, quindi sanno benissimo che cosa ci sarà nelle selezioni, nelle finali, ma si preparano per la prima, perché se non superano la prima, ecco la giuria che arriva. Dovevo svelarlo, che abbiamo pubblicato. Noi qui abbiamo chiacchierato, adesso lasciamo a voi, invece, scendo con molta... Ok. Grazie. Allora, inizio io, ma parleremo tutti e tre, perché il giudizio è stato assolutamente condiviso, quindi è stato unanime. Non ci sono stati diversità di opinioni. Inizio dicendo che comunque abbiamo apprezzato molto la vostra preparazione, la vostra capacità di sviscerare gli argomenti, l'argomento che è stato proposto. Il fatto che siete stati molto rispettosi anche nei vostri confronti reciproci, accettando quasi sempre le domande. E bisognerebbe, è comunque una cosa positiva, fare le domande e accettare comunque di rispondere. Abbiamo comunque visto questa vostra partecipazione anche emotiva, magari di più da parte di una squadra, un po' meno da parte dell'altra squadra. Comunque, insomma, siamo soddisfatti e contenti di questo impegno che avete messo. I miei colleghi scenderanno da buoni debater, scenderanno più nel concreto e poi io chiuderò con il voto finale. Ecco, grazie. Allora, in effetti qui la posizione è un po' sfortunata per non dare le spalle a nessuno. Sì, da praticamente direi pari a pari, introduco i commenti un po' più tecnici. Capisaldi del dibattito, argomentazione e confutazione. Bene, è stato detto effettivamente che forse più che di argomenti abbiamo parlato di definizioni. Questo non è un gran punto per sviluppare un dibattito, però bene, si è detto sulla distribuzione delle argomentazioni nei vari oratori, dare la possibilità a ciascuna argomentazione di avere il tempo di essere sviluppata e soprattutto qui mi rivolgo, direi, quasi esclusivamente ai primi confutatori. E' scomodo andare a confutare effettivamente, o meglio, mascherare una definizione dei termini, dandogli il ruolo di confutazione. Cioè, avete ciascuno il diritto di definire i propri termini. Superato quell'aspetto lì, iniziate a confutare gli argomenti, d'accordo? Quindi in questo senso, e non vi giustificate a un certo punto, nelle confutazioni non riprendete dicendo, confuto la squadra avversaria dicendo che non ha capito quello che ho detto io, perché questa non è una confutazione. Va bene, e invece dal suo punto di vista dell'accio, bene, vi siete alzati, avete usato il microfono, vi abbiamo sentito più verso il pubblico, più persuasi e quindi poi più convincenti. Dovete essere più felici di fare questo dibattito, siate molto coinvolti quando parlate, però in ogni caso vi abbiamo visti molto attenti, quindi siamo contenti. Ecco, passo la parola. Io rimango di qua, scendo ancora un po' più nel dettaglio e volevo dare dei consigli pratici alle squadre. Per la squadra pro, e quindi la squadra di asti, il mio consiglio è quello di cercare di fare affermazioni un po' meno nette, perché ci siamo resi conto che molto spesso, come diceva anche il mio collega, tendevate più che a confutare, a giustificare e nella giustificazione non emergevano poi dei veri e propri argomenti, ma frasi, affermazioni molto sicure, per carità, e complimenti per la sicurezza, perché comunque fa parte anche quello del dibattito, quindi la modalità con cui voi vi esprimete. Però magari, ecco, delle frasi un po' meno nette proprio in termini di mancanza di argomentazioni, perché di per sé dire è così perché l'abbiamo sostenuto fin dall'inizio, ecco, quella non vale come mera argomentazione. Invece per la squadra del Dazzeglio il consiglio è quello di non ridurre le citazioni, ma usarle in maniera un po' più intelligente, e quindi piuttosto che riempire i propri discorsi con citazioni, riferimenti che sono assolutamente apprezzati, però talvolta possono risultare eccessivi, un consiglio è quello di utilizzare la citazione come chiusura o come inizio ad effetto, e questo aiuterà anche sicuramente da un punto di vista proprio di modalità di esprimersi, azio, capacità espositiva, eccetera, eccetera. Comunque complimenti a entrambe le squadre. E penso che comunque l'applauso sia giusto per entrambi, perché effettivamente hanno lavorato entrambi. Allora, tutti e tre i giudici concordano nel ritenere che la vittoria vada alla squadra contro del Dazzeglio. Il miglior dibattente è Bellusci Alessandro. Però vogliamo anche sottolineare l'intervento di Viarengo Francesca come migliore dibatter della squadra. Non vincitrice. Grazie di tutto. Grazie. 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 Grazie.